Invito il professor Mario Plebani, direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'Università degli Studi di Padova, che affronterà l'argomento da un punto di vista più complessivo e credo che ci possa illuminare in modo completo sulle problematiche di cui discuteremo alla fine della relazione. Signori moderatori, gentili colleghi, innanzitutto voglio ringraziare la Presidenza dell'Ordine dei Biologi per questo invito che mi onora e cercherò di delineare il problema delle tariffe, dei costi e della qualità per arrivare a delle conclusioni, ma certamente credo che l'intervento appassionato del collega, del dottor Miraglia, prima abbia già delineato alcuni scenari che condivido. Allora, innanzitutto vediamo qual è oggi nel mondo, non solo in Italia, il ruolo che viene riservato ai laboratori clinici. Vedete che la medicina di laboratorio è da tutti ritenuta una componente essenziale dei sistemi sanitari e del sistema di prevenzione, diagnosi, monitoraggio, guida della terapia. Si parla sempre più di medicina personalizzata, medicina precisa. Medicina precisa vuol dire che è basata su informazioni di laboratorio oggettive sempre più. E viene riconosciuto maggiormente, di qualche anno fa, l'importanza dei laboratori clinici anche nella gestione del rischio clinico e nell'assicurare la sicurezza dei pazienti. E poi vedremo verso la fine alcuni dati che abbiamo raccolto in questi anni. a riaffermare questo, per fare in modo che quello che vi ho detto non sembri, anche se penso che voi lo condividiate, ma non sembri il parere di uno che lavora nella medicina di laboratorio, è questo documento che vi inviterei comunque a tenere presente. Voi sapete che l'Istituto of Medicine degli Stati Uniti è un prestigioso istituto che ha dato e continua a dare alle stampe pubblicazioni di fondamentale importanza. Forse quello più conosciuto è To Eris Human, in cui sono stati descritti nel 2000 gli errori iatrogeni compiuti in medicina, ma poi ci sono stati molti altri report. Ebbene, nel 2011, concludendo un importante studio per ridefinire quali siano i servizi essenziali nei sistemi sanitari, ebbene, come farò vedere nella diapositiva seguente, i servizi di laboratorio rientrano tra le dieci categorie essenziali. Perché? Perché è dimostrato il beneficio in rapporto agli esiti di salute dei singoli pazienti e in generale della popolazione. Quindi questo è un documento recente che ci dice che tra i servizi essenziali di ogni sistema sanitario, oltre all'emergenza, all'ospedale, i servizi riabilitativi, vedete, ci sono i servizi di laboratorio. Quindi credo che se avessimo avuto bisogno di un'ulteriore prova, oggi possiamo portarla a dimostrazione dell'importanza dei servizi in cui facciamo parte. Bene, molto probabilmente molti di voi ricorderanno che nel collegato alla finanziaria del 2007, forse da lì sono nati molti dei mali che hanno portato alla Balduzzi, era scritto che ogni regione avrebbe dovuto, era scritto che bisognava operare un taglio del 50% delle analisi, inizialmente era scritto così, delle analisi cosiddette automatizzate, che ogni regione entro il febbraio dell'anno successivo, e la finanziaria come è noto esce a dicembre, doveva portare un piano di riorganizzazione dei laboratori. La prima parte eravamo riusciti a bloccarla, cioè c'è stato uno stop di quella diminuzione del 50% del tariffario. La seconda parte ci ha portato attraverso un lavoro abbastanza lungo che è stato condotto sotto legge da Dell'Agenas, e questo è il documento finale che è stato rilasciato nel 2009 dal Ministero, a descrivere un quadro di riferimento per la riorganizzazione dei servizi di laboratorio, in cui si dice che la medicina di laboratorio consente il 60-70% delle diagnosi, i percorsi diagnostico-terapeutici non possono prescindere dal contributo e dall'integrazione con i servizi di medicina di laboratorio, tutte cose che sono ovvie, non tanto a chi opera, ma ai pazienti, e che i piani di riorganizzazione delle strutture dovrebbero o devono garantire due obiettivi, la razionalizzazione ma anche la qualificazione. Uno degli elementi fondamentali che avevamo stressato in questo documento era la logica che sempre più, secondo alcuni politici e amministratori, vede i laboratori come delle fabbriche, delle fabbriche di dati, e promulga quindi un allontanamento del laboratorio dalla medicina clinica, vuol dire creare dei megalaboratori che sono scollegati dalla capillarità a cui faceva anche riferimento il collega Miraglia. Ora questo problema che esiste in alcune regioni d'Italia e in altre no, o meglio è presente fortemente in alcune regioni, aveva bisogno come di quadri, di un inquadramento che abbiamo cercato di dare. E allora il primo problema è quali sono i dati oggettivi, perché se questi signori credono che aumentando il volume di produzione diminuiscono i costi, ci devono portare delle evidenze, delle prove. Io sono andato a vedere nella letteratura, ma ahimè ho trovato solo questo lavoro che abbiamo pubblicato recentemente, tra l'altro se volete potete scaricarlo gratuitamente perché nella rivista il downloading è free, che è intitolato provocatoriamente comprare per la qualità o quantità il problema dei volumi e dei costi nella medicina clinica o se volete nei laboratori clinici. Ora come è stato condotto questo studio? Come potete vedere è uno studio italiano condotto su 20 laboratori, sono laboratori non tutti pubblici ma ci sono anche delle strutture private, sono laboratori che hanno un range di volumi ampio che va da 400.000 fino a 8 milioni, sono laboratori che hanno per esempio la microbiologia o alcuni non ce l'hanno, che hanno le urgenze incorporate all'interno o no. Quindi è un lavoro che ci ha portato a dire, ma vi faccio vedere questa diapositiva, che non esiste un rapporto lineare tra costi e volumi. Non è affatto vero che aumentando i volumi si diminuiscono i costi. Infatti vedete che il costo per test sembra diminuire per laboratori che hanno volumi inferiori a un milione di esami all'anno complessivamente, ma poi da un milione in su che se ne facciano due milioni, un milione e mezzo o otto milioni vedete che non c'è un trend lineare. Quindi non è affatto vero quello che ci dicono aumentando i volumi non diminuiscono linearmente i costi. Questo è vero per la chimica clinica in cui vedete che dopo, quando si è arrivati a una soglia che possiamo più o meno fissare sui 100-150 mila volumi test per anno, il costo per test non va diminuendo. Questo è vero per l'ematologia, questo è vero per la coagulazione, questo è vero anche per l'esame urina in cui vedete che se mettiamo una soglia sui 50 mila, 50 mila in su non succede proprio niente. Qual è il rapporto tra le unità di personale e i volumi? Per quanto riguarda i tecnici c'è un rapporto che ci dice che aumentando i volumi, logicamente, tende ad aumentare il numero di personale tecnico. Ma se andiamo a vedere il rapporto tra i dirigenti, quindi la dirigenza medica e non medica, il rapporto non è altrettanto lineare. Questo ci dice che c'è una complessità nell'organizzazione dei laboratori e che il rapporto tra volumi e costi dipende da tante cose. Se vi faccio vedere anche le conclusioni, le conclusioni sono quindi che il rapporto non è affatto lineare, volumi e costi non diminuiscono i costi man mano che aumentano i volumi, ma c'è una complessità. Ci sono numerose variabili, le numerose variabili sono di tipo organizzativo, sono anche, ahimè, le politiche delle aziende che qualche volta fanno prezzi differenziati anche se i volumi sono uguali, ma sono il mix di complessità clinica che in alcune strutture si trovano a gestire. Questo ci ha portato anche a vedere se i costi diminuiscono quando si opta nei grandi, soprattutto per le totali automazioni, questi laboratori sempre più grandi con automazione totale piuttosto che la cosiddetta automazione stand alone, che sono strumenti sia automatizzati, ma che non sono per esempio collegati da catene e in effetti si vede che non è proprio che la total automation per tutti i laboratori diminuisca i costi, anzi a certi volumi i costi dell'automazione totale che sono rilevanti portano a un aumento dei costi complessivi. Quindi questo lavoro, e guardate nella letteratura se ne trovate degli altri siete così gentili da inviarmeli, è l'unico lavoro, almeno negli ultimi anni, che dice qualcosa sulla complessità del rapporto. Bene, se qualcuno di voi ha letto invece questo lavoro che è stato pubblicato molto recentemente sulla rivista dell'Agenas, il primo nome è di questo signor Ragnar Gustran, io mi chiedo in Italia abbiamo bisogno ogni tanto, la nazionale di calcio, chi non è più giovane come me si ricorda che avevamo bisogno degli oriundi. Evidentemente l'Agenas aveva bisogno di andare, non so se in Svezia a prendere questo signore, che ha portato un modello di simulazione economica. Vi tratterò un pochino su questo, ma abbiate pazienza solo per farvi capire la complessità di che cosa pensa qualche volta chi ci dirige. Sappiate che Balduzzi prima di essere ministro era stato presidente dell'Agenas. In questo documento si dice che per fissare il costo standard, quindi per dirci quali sono le tariffe che dovremmo adottare, bisognerebbe disegnare il laboratorio standard in cui l'esame è effettuato definendo queste variabili. La dimensione, la tipologia, i volumi di produzione, la produzione, il numero di esami, la struttura organizzativa, le tecnologie, i processi produttivi, le materie prime, la dotazione organica, i costi della struttura, gli oneri finanziari e i costi generali. Cioè disegnare un quadro perfetto, ma noi viviamo in un mondo reale, viviamo in strutture che operano in montagna piuttosto che nelle isole, viviamo in realtà metropolitane ma anche in realtà diversa in cui dobbiamo comunque dare assistenza. L'analisi di questi signori dopo aver disegnato il quadro ideale non si sa perché prende in considerazione tre casi europei di grande automazione. Uno è italiano, l'area vasta della Romagna, il laboratorio di Pieve Sistina che fa più o meno 11 milioni di esame. Gli altri due signori sono l'ospedale di Malaga che fa 5 milioni e 500 mila e l'ospedale di Palma di Mallorca. Non so, saranno andati in gita in Spagna. C'era bisogno di andare lì. Guardate che questo è un documento per noi, non è mica per l'Europa, è un documento per l'Italia e hanno preso su tre laboratori due laboratori spagnoli. Guardate che cosa hanno fatto? Questo è l'esempio, la diapositiva che c'è, la figura che c'è nel lavoro. Per calcolare il costo per esempio dei ricavi nei centri prelievi hanno messo queste voci, il tempo di emorragia che come è noto è un esame obsoleto che non bisognerebbe più fare e hanno messo il prelievo in non collaborante che non esiste nel nomenclatore tariffato, che faccio fatica a capire perché è chiaro che non collaborante può essere il bambino piccolo che si incazza e non vuol farsi il prelievo come pure qualche... ma cosa vuol dire esattamente questo prelievo in non collaborante? Ecco questa è la rigorosità metodologica di questi signori. Dopodiché per esemplificare la scontistica ci dicono che questo è la montare degli sconti per gli acquisti, non si capisce di quale di queste strutture, non si capisce verso quale azienda, ma vedete che ci sono, dicono in allergologia fanno sconti del 40%, cosa vuol dire? 70% in ematologia, ma sono tutte ladre le aziende, cioè hanno i listini struccati, sinceramente questa cosa è incomprensibile. Io sono arrivato alle conclusioni che questo modello economico che si chiama quotif in realtà dovrebbe essere definito quotnot, perché non dice nukaz come si dice a Napoli. Per cui mi permetto anche se qualche signora può dissentire sul lessico, e me ne scuso, di dire che mi trovo davanti a un lavoro che tratta più di dissociazione o perversione, perché da un lato si definisce un laboratorio standard su cui strutturare il costo standard, dall'altro lato si dice ma allora possiamo abbattere la tariffa del 20-25% e la frase sotto non la leggo perché se no dite che dico sempre brutte parole, ma mi sembra proprio che sia fatto senza una motivazione precisa. Ora, quali sono esperienze invece che hanno cercato concretamente di strutturare un'analisi per vedere qual è il costo e quindi passare alla tariffazione degli esami? Beh, nel Veneto abbiamo subito, subito non l'abbiamo voluto, ma nel 2007 l'assessorato ci ha chiesto di collaborare a una ricerca che è stata fatta insieme al CERGAS Bocconi, quindi la metodologia della Bocconi, la Bocconi ha preso molti soldi, noi che abbiamo collaborato neanche un petacchino, e per studiare appunto i costi sono state prese in esame due i laboratori delle due aziende ospedaliere universitarie, Padove e Verona, altri laboratori delle ULSE e anche due strutture private. E che cosa è stato fatto? Vedete che si è cercato di studiare intanto la composizione delle attività per gruppi standard nelle aziende e vedete che c'è certamente la chimica clinica in qualche struttura la fa da padrone, ma guardate bene che ci sono due strutture che per esempio fanno molti esami di genetica, quindi è una complessità abbastanza elevata. Sono stati studiati i costi delle linee produttive, cioè i controlli di gestione, quindi i dati non sono dati raccolti, i controlli di gestione hanno validato tutti questi dati per gli esami delle urine, delle feci, per esami più semplici come la VES, l'ematologia, vedete che è stato studiato il costo dei beni, il costo del personale, il costo della tecnologia, il costo della fase preanalitica, il prelievo, il costo della fase postanalitica, eccetera, eccetera, i costi generali. E io penso che voi sappiate che la Bocconi quando fa queste cose si fanno pagare ma non sono degli stupidi. Ebbene, che cosa abbiamo visto? Se siete così attenti da seguirmi, nella parte destra della figura in rosso sono le prestazioni che risultano rispetto, attenzione, al tariffario del 1996 che non è stato mai toccato, poco retribuite. Vedete, per esempio, che il prelievo, i costi del prelievo sono 157% volte superiore ai costi che ci vengono retribuiti con la tariffa del 1997. Vedete anche che in analisi di micologia, di batteriologia, ma anche in autoimmunologia, ma anche in alcune prestazioni, in altre prestazioni, c'è una sottostima, c'era una sottostima nel tariffario 1996. In verde ci sono invece le analisi che risultano avere costi di produzione inferiori alla tariffa. numericamente abbiamo trovato 275 analisi che erano sottostimate economicamente nel tariffario nazionale e 214 invece che avevano una retribuzione superiore ai costi. Ma state attenti però, in qualsiasi entità produttiva, una volta che si sono stabiliti i costi di produzione, poi c'è un fattore che è la marginalità che deve rappresentare quel per cui deve essere moltiplicato i costi di produzione per avere quel margine che permette l'innovazione, la formazione, che permette tutte le attività che qualsiasi imprenditore, ma anche qualsiasi struttura pubblica o privata deve tenere in mente. Quindi state attenti che quando parliamo di costi di produzione non è la tariffa. Eppure vedete che c'erano già 275 esami che avevano costi di produzione superiori alla tariffa. E guardate che il costo, vedete, in molti casi per 55 di queste analisi era superiore di un range tra il 100 e il 200% addirittura alla tariffa praticata. Questa è la strutturazione della produzione standard, ma insomma penso che abbiate capito il messaggio. E il messaggio è che quando si è andati poi alla Balduzzi, il taglio è avvenuto senza alcuna valutazione di dati oggettivi. Un'altra cosa che vi faccio vedere che interessa sia alle strutture pubbliche, soprattutto alle strutture pubbliche, ma anche al privato, è questo. Nel Veneto sono state fatte tre indagini sui costi e sulla struttura dei costi in laboratorio nell'85, nel 95 e nel 2009, appunto questa della Bocconi. Che cosa abbiamo visto? Che in generale il costo del personale è andato sempre diminuendo. Il costo delle attrezzature anche, quello che sono aumentate fortemente sono le spese generali per la burocrazia che uccide questo paese. Quando io sono entrato in ospedale, tanti anni fa, c'erano tre persone, le conoscevo. Adesso c'è un esercito, una pletora. Perché le procedure amministrative a cui siamo obbligati, e siete obbligati anche voi, sono talmente sofisticate che c'è bisogno di questo apparato. Tenete presente questo quando si va a strutturare il costo degli esami che facciamo. Bene, vado alle conclusioni. Conclusioni ma ho una parte residua e spero che mi si dia il tempo. I tagli lineari praticati sul tarifario con la Balduzzi non sono basati su dati oggettivi. Credo di averlo dimostrato. Vi è una dissociazione tra enunciati, cioè nel documento dell'Agena si dice che bisognerebbe determinare i costi standard andando a strutturare il laboratorio standard, e i risultati che sono invece stati tarati su tre strutture che non si capisce perché siano state individuate in quel modo. Vi è assoluta confusione sulla tariffa come sistema di rimborso a soggetti accreditati e finanziamento di strutture pubbliche. Per esempio le strutture pubbliche dovrebbero avere un meccanismo diverso di retribuzione. Non si capisce perché quando si parla del tariffario che molto probabilmente dovrebbe essere indirizzato a rimborsare il privato accreditato, perché il privato accreditato tra l'altro ha dei costi imprenditoriali che la struttura pubblica non ha. Quindi credo che queste cose vi portino a dire insieme a me che c'è una visione miope dei costi e del valore dell'informazione di laboratorio. Ecco, questo l'ho portato giusto perché se qualcuno vuole andare a farsi una lettura a meno, questo è il numero di monitor in cui potete trovare quei lavori che ho citato prima. Quali sono poi i postulati dell'Agenas, la nuova visione che hanno dei laboratori clinici? Il primo è che c'è una impercettibilità da parte degli utenti del distacco dalla sede di produzione. Dopo vedremo uno per uno. Le economie di scala, cioè maggiori volumi significano riduzione dei costi, gli sviluppi tecnologici, la flessibilità, il ruolo dell'informatica, il tariffario e la razionalizzazione, l'omogeneità della qualità nella rete e la proprietà prescrittiva. Allora, il primo punto è questo e vorrei discuterlo con voi. Loro dicono che la sede di produzione è normalmente staccata dalla sede di erogazione del servizio, il che significa che una concentrazione dell'apparato produttivo non ha effetti percettibili dagli utenti. Ma voi credete che sia vero questo? Cioè quando un paziente viene da voi nel vostro ambulatorio, ma a chi va a chiedere poi spiegazione di quei risultati? Al megalaboratorio di cui non ha magari nemmeno l'indirizzo? Mi hanno minacciato per cui non ho potuto mettere una diapositiva, ma mi hanno minacciato. Il secondo punto è le economie di scala, ma questo ve l'ho già fatto vedere. Esistono diverse esperienze che evidenziano sensibili economie. Io vi ho fatto vedere come questo non si è dimostrato. Il terzo punto sono gli sviluppi tecnologici, la flessibilità e il ruolo dell'informatica. Ma vorrei passare al tarifario e alla razionalizzazione. loro scrivono un elemento di razionalizzazione economica arriva dal nuovo tarifo del Ministero della Salute che comportano mediamente una diminuzione. Beh, signori, questa è un'espressione veramente offensiva, sulla quale io penso che anche come ordine e insieme dobbiamo prendere dei provvedimenti. Vado all'ultimo punto dei postulati, l'omogenità della qualità nella rete. Cioè, loro dicono, una rete come quella descritta, che poi non è una rete, presenta elementi maggiori di qualità in quanto le metodiche sono sempre le stesse per un paziente che di volta in volta, ma siamo proprio sicuri di questa cosa. Io vi faccio vedere dei dati, questi sono i dati della valutazione esterna di qualità che noi gestiamo a livello nazionale. Ci sono tre esami comuni, il T3 libero, il T4 libero, il TSH, esami quindi della funzionalità tiroidea, ottenuti da laboratori che usano lo stesso metodo. E voi vedete che ci sono variazioni anche del 20%. Che cosa significa questo? Che non basta avere la metodica, lo strumento. È la professionalità degli operatori che dà poi il risultato finale. Ma spero che siate d'accordo su questo. Se no, cosa ci stiamo a fare nei laboratori? Guardate cosa avviene con l'omocisteina. L'omocisteina con lo stesso metodo, in laboratori diversi, può avere risultati del 30% diversi. Ma penso che... Questi sono i dati, altro che omogeneità. Bene, che cosa ci chiedono i nostri utenti? Questo è un survey fatto recentemente negli Stati Uniti, ma io penso che lo chiediamo ai nostri pazienti e anche ai medici che ci chiedono gli esami, avremo la stessa risposta. Chiedono per prima la qualità, l'affidabilità dei risultati, che conta molto di più della rapidità, che conta molto di più del costo, che conta molto dell'accessibilità anche, che conta molto più di tutte le altre variabili. D'altra parte, se abbiamo studiato biologia, medicina, è per fare qualità. Ora, la qualità è un sistema oggi che abbiamo imparato negli ultimi anni, questo è un lavoro mio di dieci anni fa, che non basta la qualità analitica, perché noi sappiamo che esiste un grande problema preanalitico e postanalitico e staccando i laboratori dal luogo in cui viene fatto il prelievo aumenta la pericolosità, soprattutto degli errori preanalitici. Ora, quindi, è vero l'esame di laboratorio, nel contesto della cosiddetta patient safety, sicurezza per il paziente, ci dice che bisogna che ci sia una richiesta appropriata, che ci sia ovviamente una fase analitica ben condotta, ma anche un'appropriata interpretazione e un utilizzo corretto, se vogliamo che siano generati benefici. Ma se la richiesta è inappropriata, se c'è una mancata interpretazione, avremo una diagnosi ritardata e danni per il paziente. Questo è stato descritto ormai nel 1981 da George Lundwer con il famoso ciclo che va dal cervello del medico al cervello del medico per descrivere l'analisi di laboratorio e che porta a dire che l'analisi di laboratorio dovrebbe avere come finale un'informazione che determina degli esiti clinici validi e anche degli esiti economici. Recentemente questo studio americano ha dimostrato, uno studio pilota, ve lo faccio vedere, che aumentando l'utilizzazione degli esami di laboratorio, per esempio richiedendo per i pazienti diabetici che almeno una volta all'anno si è fatto un esame della glicemia, dell'emoglobina glicata, nei dislipidemici del colesterolo e di altri, abbiamo una riduzione del costo per test di imaging, abbiamo una riduzione dei costi complessivi, abbiamo un miglioramento degli esiti di salute e abbiamo una migliore efficienza. Quindi se questi signori volevano avere degli altri dati oggettivi adesso li abbiamo. Altrimenti la nostra fine sarà questa, un banchetto in cui per le strade si può fare un po' di colesterolo, si può fare un po' di PSA al costo più basso possibile, ma non credo che sia lo scenario che vuole l'ordine dei biologi che nessuno di noi vuole. Ora, questo documento riafferma quello che vi ho appena detto, e cioè l'aumento della distanza dalla clinica e dai pazienti determina un aumento degli errori preanalitici che, state attenti, diminuisce ogni risparmio perché si traduce in una iperprescrizione, cioè ripetizione di esami e via dicendo. Quindi anche dal punto di vista economico queste misure che sono invocate sono inutili. E dal lato clinico ci dicono, vedete che ci sono dei lavori ormai sia nel settore della medicina di base, chiamiamola così, del territorio, medicina interna, e anche nei reparti di emergenza, che l'incapacità di richiedere appropriatamente test diagnostici in questi grandi studi varia dal 30 al 55, 58%, e anche l'incapacità a interpretare correttamente gli esami è aumentata per il distacco del laboratorio dalla clinica. Vogliamo perseverare? Vado avanti. Voi sapete ormai che l'errore diagnostico che negli Stati Uniti è stabilito è l'errore più frequente in medicina e che provoca più danni per i pazienti, nel 46% dei casi è provocato da errori nella richiesta, nell'esecuzione e nell'interpretazione di esami di radiologia e di laboratorio. Questi sono dati. E allora io vi chiedo ma la nostra missione è fornire solo risultati in fretta e a basso costo? Io penso di no. Io penso, e spero che siate con me d'accordo, che noi dobbiamo sempre più partecipare alla creazione di percorsi diagnostici che permettano la prevenzione, la diagnosi accurata e tempestiva, scelte terapeutiche personalizzate, appropriate e monitoraggi efficaci. La medicina di laboratorio ha bisogno di essere impostata su basi qualitative e non sulla riduzione dei costi. Grazie. Grazie. Applausi. 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 Grazie. Applausi. 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 Grazie. Grazie, professor Plebani. È un quadro completo, chiaro, con qualche spigolo notevole, che è stato molto apprezzato anche dai colleghi in sala e penso che dovrebbe suscitare grande interesse tra noi e invito a porre delle domande ad entrambi i relatori di questa prima parte della sessione. la ringrazio della relazione e per quanto ci riguarda noi che siamo laboratoristi e privati accreditati che viviamo un momento di grossa incertezza dovuto proprio a questo tarifario Balduzzi che non è il solo a crearci problemi perché in realtà il tarifario Balduzzi è solo l'ultima dei regali che questo diciamo che il ministero ci ha fatto. Il nostro grosso problema è che queste benedette tariffe non si riesce a far capire al ministero all'agenas che in realtà il laboratorio di analisi non si tratta solo di costi c'è ben altro dietro il problema della professionalità da dove sorge il problema della professionalità di chi è la colpa che non ha voluto far capire questo discorso della professionalità noi abbiamo insistito molto nei nostri incontri ufficiali e non nel dire che c'è una dignità professionale che ci sono che non è solo un discorso meramente ma si insiste sempre coi costi allora cosa fare per far capire al ministero vedo già la sua faccia il discorso della professionalità noi come ordine il nostro intento è quello di parlare di qualità dignità professionale e di professionalità perché noi solo di questo parliamo e possiamo parlare perché nel merito delle tariffe lasciamo ai sindacati il compito della trattativa però anche per noi ordine diventa estremamente difficile far capire soprattutto anche una platea più allargata dello stesso ministero che significa avere personale preparato e formato all'interno di un laboratorio grande o piccolo che sia e il significato di quella persona che alla fine va a verificare se quel numero deve uscire o non deve uscire se va ricontrollato o non ricontrollato e così via il grosso problema è quello perché quando parliamo di queste cose ci dicono il personale lo potete licenziare qual è il problema signor Presidente intanto la ringrazio come dire chi mi segue un pochino sa che tutta la mia vita l'ho spesa evidentemente senza sì no evidentemente senza risultati perché quando abbiamo interloquito con i vari ministri o comunque a più basso livello non siamo riusciti a far comprendere la professionalità intrinseca evidentemente penso evidentemente non sono capace non sono bravo però io non ho perso la speranza e credo di dover dire alcune cose primo è ovvio ed evidente che ormai bisogna fare fronte comune perché le divisioni tra privato pubblico non hanno senso se vogliamo salvare questa professione il secondo dobbiamo smettere anche divisioni che ci sono state tra figure professionali mi ferisco proprio biologi contro medici perché non è questo il problema terzo un elemento che mi dà veramente difficoltà di comprensione è il rapporto che c'è tra la sede centrale il ministero l'agenas e gli assessorati regionali perché quando nel 2009 siamo riusciti a far uscire quel documento che era una linea guida molte regioni hanno detto noi siamo autonome possiamo recepirlo o non recepirlo poi vai negli assessorati e vedi che fanno quello che vogliono in certi momenti però quando viene fuori la balduzzi la applicano subito è una dissociazione anche questa no perché le regioni hanno la possibilità la possibilità di fare un tarifario loro quindi il problema io non lo so però la speranza mia è questa che i dati che sfortunatamente in qualche modo sfortunatamente ma che escono in questo momento più dal settore clinico ci fanno capire come l'errore di laboratorio e la qualità quindi besta in positivo determini veramente modifichi veramente la qualità delle cure d'altra parte facciamo un esempio una volta se uno aveva se uno aveva un dolore cardiaco e entrava in pronto soccorso gli facevano un elettrocardiogramma adesso gli fanno la troponina cioè gli esami di laboratorio dobbiamo far capire che non sono quelli di 50 anni fa sono quelli che oggi sono indispensabili per capire il rischio delle malattie per trattare le malattie al più presto e per monitorarle in maniera efficace io credo che sia questo oggi il livello su cui la professione deve andare e io spero che anche oggi vedo che ci sono giovani non solo persone anziane come me ahimè in sala si abbia la forza insieme di proporre questo ai vari livelli ci sono altre domande scusa aspetta collega che non ti ascoltiamo chiedo scusa un chiarimento piccolissimo ho capito bene che lei quando lei ha detto che i costi delle analisi di laboratorio nei privati nei pubblici sono quattro volte superiori non l'ho detto io però chi l'ha detto è vero questa cosa allora voglio dire perché da noi dovrebbero costare un quarto cioè almeno che ci paghino quello che spendono loro loro spendono quei soldi lì dice perché non danno nel privato ma gli stessi del pubblico collega ti rispondo perché a livello ufficiale quando siamo andati a fare l'audizione nella sesta commissione sanità della regione sicilia il presidente della commissione ha denunziato questo che da una sua indagine risulta che in Italia non solo in Sicilia le analisi nelle strutture pubbliche costano quattro volte il privato la risposta qual è da parte della regione e dello Stato che hanno impiegati che c'è il personale che non lo possono licenziare e che quindi dato che loro poi rimborsano tutto quello che fanno piedilista e quindi dicono non possiamo fare niente noi che cosa abbiamo proposto abbiamo proposto perché non date tutto ai privati e resta nell'ospedale solo chi è ricoverato si seguono gli esami negli ospedali mentre tutti gli altri esami vengono fatti fuori e così si rispamma si pensa che in Sicilia noi facciamo l'80% delle prestazioni mentre il pubblico fa il 20% noi il nostro diciamo settore è finanziato con 120 milioni di euro mentre il settore privato e il settore pubblico è finanziato con 250 milioni di euro questa è la situazione è una situazione grave che bisogna attenzionare il ministro secondo me a livello ministeriale non capiscono niente di questa situazione perché non sanno veramente i costi degli esami mi sembra evidente se l'80% costa la metà del 20% bisogna denunziare io non voglio neanche parlare di professionalità di qualità che è la prima è la prima cosa anche perché il privato sotto il referto mette il suo nome ed è responsabile lui nel pubblico non si sa bene ma almeno da me ma voglio dire visto che parlano di costi mi sembrano costi i numeri non è che siano difficilissimamente interpretabili indipendentemente dal personale dalla qualità dalla professione visto che parlano solo di quello però non so faccia lei il presidente prego prebani una soluzione potrebbe essere una volta per tutte far capire al ministero che il corretto utilizzo di protocolli diagnostici potrebbe risolvere il problema che il medico che prescrive tutto e di più può non essere una soluzione soprattutto tenendo conto che i medici non me ne vogliano ma molto spesso sottoposti alle pressioni del paziente scrivono perché noi sappiamo che il medico che certe volte non scrive farmaci o non scrive analisi per loro non è un bravo medico e quindi lo cambiano quindi spesso il medico è sottoposto a questa pressione prescrive di tutto e di più attualmente ci sono i protocolli diagnostici ma c'è comunque una spesa esagerata se il ministero questi protocolli diagnostici li rendesse un po' più rigidi e anziché mettere in convenzione mille voci metterne 400 300 quelli considerati essenziali potrebbe salvare capre e cavoli tanto volente o nolente purtroppo con la spending review col tariffario valduzzi e con tutte le cose della burocrazia il paziente ormai è costretto a pagare quasi tutto cioè comunque deve uscire di tasca propria sempre dei soldi perché comunque ci sono delle voci che non risultano oppure soprattutto per quanto riguarda non il laboratorio di analisi perché assistiamo che spesso per ottenere una prestazione si va a fare in intramenia magari la macchina è rotta la mattina per gli interni però stranamente il pomeriggio poi funziona è una cattiveria lo so lei ha visto report a parte report ma sono cose che viviamo io vengo da Padova le dico perché le ho vissute in prima persona con la mia famiglia una mammografia che si doveva fare nel 2017 all'improvviso il giorno dopo ci arriva la telefonata e si è liberato un posto il famoso si è liberato un posto in intramenia ovviamente allora Presidente lei ha fatto una domanda che richiede una risposta un po' complessa mi darà qualche minuto per rispondere innanzitutto sì in generale il problema della proprietà prescrittiva è un problema grandissimo quindi sicuramente è quella la leva se vogliamo ottenere dei risparmi nel settore cioè migliorare la proprietà nella richiesta e poi nell'interpretazione degli esami anche qui però bisogna stare attenti per esempio in Veneto c'è in questo momento un progetto per cui uno un medico si è inventato che se dal medico di medicina generale va uno e dice che ha mal di fegato automaticamente viene fuori nella ricetta degli esami e questo l'ha deciso lui quindi su questo non possiamo essere d'accordo dobbiamo capire a livello di professione quali sono gli esami giusti per esempio c'è un'esperienza bellissima che se volete metterò a disposizione a cui ho collaborato come revisore i colleghi del Regno Unito hanno mandato fuori un documento che dice qual è il cosiddetto minimum retesting interval cioè l'intervallo minimo prima del quale un'analisi non va ripetuta l'emoglobina aglicata siccome la vita media dei globuli rossi è 90 giorni è inutile chiederla prima di tre mesi e questo è una cosa oggettiva cioè basata sul quindi io penso che dobbiamo insieme fare delle iniziative che sono inizialmente culturali e poi sono prescriptive come ha detto lei per migliorare la proprietà nella richiesta degli esami perché è lì che si potranno avere dei vantaggi tenendo presente che se non facciamo così poi il paziente continuerà a stressare e se non ottiene la ricetta dal medico di fiducia poi voi sapete che negli Stati Uniti via internet mandano la saliva e si fanno ormai sintetizzare tutto il DNA il genoma vogliamo questo noi pensiamo invece che l'informazione di laboratorio debba essere richiesta correttamente perché poi deve essere utilizzata correttamente perché se uno vede che c'ha tre mutazioni nel DNA ma che magari non hanno senso si suicida se non viene interpretato correttamente adesso ho esagerato ma mi capite bene ecco spero di averle risposto in qualche modo se non ci sono altre domande vorrei invitare il professor Plebani a darci anche un suo una piccolissima domanda il discorso ragioneristico ad cui si parte per una definizione delle tariffe penso che dovrebbe essere preceduto da una serie di interventi professionali come giustamente diceva il presidente Calcatelli sia interventi professionali su quelle che sono le determinazioni dei protocolli diagnostici quindi uno studio delle malattie e anche uno studio dell'epidemiologia perché cambia anche tutto il discorso dei protocolli diagnostici alla luce dei protocolli epidemiologici un cambio della medicina territoriale e nosocomiale per la quale potrebbe essere anche interessante fare delle discussioni e poi valutare anche la professionalità con quello che lei ha ben evidenziato come affidabilità del dato cioè noi oggi siamo legati in una gabbia tipicamente ragioneristica per cui di affidabilità del dato parliamo solo di appropriatezza però mi scusi perché non parliamo un poco del dato analitico anche parliamo del dato analitico solo indubbiamente le fasi dell'attività laboratoristica sono tante però l'attività della qualità del laboratorio è precisione e accuratezza quindi evidenziamo anche la professionalità del laboratorista in quella che è l'analisi dei costi quindi inizialmente parlare non solo di protocolli diagnostici anche di ricerche epidemiologiche che potrebbero cambiare un indirizzo tipicamente ragioneristico dell'evidenziazione dei protocolli tra i fari precedere tutto questo per poi arrivare non solo a un'analisi dei costi ma anche a un'appropriatezza delle richieste e nello stesso tempo valutare obiettivamente quelli che sono i portatori di interessi e l'universalismo delle produzioni diagnostiche non dare tutto a tutti ma darlo in una maniera equilibrata e che possa essere anche efficiente ed efficace grazie non so se è una critica ma in una relazione bisogna no 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 in una relazione non si può essere esaustivi parlare di tutto il mondo ma lei parlava di una serie di proposte quindi vedere anche vari aspetti di quelli che possono essere proposte io ho sempre scritto e detto che la prima cosa che dobbiamo fare è fare bene le analisi quindi in precisione in accuratezza se lei avrà modo di venire a Padova il 25 facciamo una conferenza internazionale sull'armonizzazione nei laboratori clinici quindi standardizzazione ho fatto vedere la valutazione esterna di qualità quindi sicuramente ha ragione l'altra cosa che stiamo facendo è creare e il giorno prima a Padova il 24 faremo una consensus conference a livello internazionale sugli indicatori di qualità indicatori di qualità nella fase preanalitica nella fase analitica nella fase postanalitica se poi avremo modo se il presidente Lano Ventura mi rinvita avremo modo di discutere con voi forse di queste cose che sono gli elementi che dobbiamo andare a proporre agli assessorati al ministero per far vedere che l'analisi di laboratorio non è quello che credono loro pigia il bottone e viene fuori il risultato infatti io avevo apprezzato la sua relazione che si concludeva su qualità e affidabilità quello è il perno centrale e in questo ambito brevemente come si dovrebbero porre i laboratori verso le innovazioni verso i nuovi approcci diagnostici perché siamo in una situazione difficile di tagli lineari però se uno non guarda un po' al futuro e non si attrezza ad accogliere le novità dalla farmacogenetica e non ne cito altri campi penso che ci possa essere o a un cosiddetta diagnostica predittiva di predisposizione potrebbe essere un campo in cui i laboratori potrebbero intervenire al di là della convenzione questa è una bella domanda a cui rispondo volentieri anche sapendo di noi mi permetta colgo l'occasione di invitarla se troverà il tempo a scrivere un articolo per biologi italiani su questa relazione ho già scritto questo l'ho già scritto sì sì ma aggiornandolo sì 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 no appena scritto per questi giorni l'ho mandato al presidente no l'ho mandato al presidente la cosa che no no ma però ne scriverò un altro allora su questa seconda parte sì perché è un argomento che anche come professore universitario mi affascina cioè come l'innovazione viene trasferita nei nostri laboratori e qui credo che sia veramente una sfida per noi che si lo slogan è che noi dobbiamo introdurla quando è sufficientemente standardizzata cioè esattamente come diceva la collega quando i dati di precisione di accuratezza sono dimostrati e allora forse la ricetta è che possiamo andare a vedere nel nomenclatore voi sapete che nel nomenclatore ci sono degli esami che non si possono più fare l'MCA è stato dismesso che un marcatore tumorale che i più giovani nemmeno conoscono lo faceva solo la ROSS è stato dismesso dieci anni fa ma c'è ancora ma nessuno lo può richiedere allora se noi andiamo a far pulizia degli esami obsoleti forse riusciamo a convincere questi signori che con le risorse residue risparmiate possiamo introdurre l'innovazione altrimenti l'innovazione sarà come dire detenuta da laboratori non istituzionali da laboratori di ricerca universitario piuttosto che da quelli che faranno anche in Italia le analisi via internet allora io penso che sia compito anche dell'ordine di andare a vedere come portare l'innovazione nei nostri laboratori attraverso una crescita professionale attraverso la standardizzazione attraverso magari il risparmio non facendo più esami inutili grazie ai relatori di questa prima parte valeva la pena sforare un pochino e vi invito a essere precisi e puntuali in aula tra 15 minuti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti